Ciao ragazzi, ben ritrovati, un grosso saluto. In questa lezione noi proseguiamo velocemente quello che è il nostro percorso della storia, tra virgolette, del cristianesimo. Chiaramente le tappe sarebbero tantissime, ma il tempo e la situazione ovviamente non ci permettono di approfondire più di tanto, quindi scorriamo via veloce. Avevamo rimasti alle persecuzioni, il cristianesimo perseguitato, poi questa religione si sviluppa talmente, abbiamo detto, che a un certo momento la maggioranza della popolazione dell'impero è cristiana. Costantino, lo sappiamo, fa il famoso editto di Milano nel 313 e poi ci sarà Teodosio che con l'editto di Tessalonica fa in modo che il cristianesimo diventa la religione ufficiale dell'impero. Ci saranno dei tentativi di far ritornare la religione romana, la politeista, ma tutti infruttuosi. Ormai il cristianesimo era entrato nella maggioranza della popolazione. Il cristianesimo diventa ufficiale, gli imperatori diventano cristiani, l'impero romano d'occidente crolla nel 476, nascono i regni romano barbarici, li conosciamo, Lungobardi e poi soprattutto Carlo Magno. Sto scorrendo velocissimamente. Con Carlo Magno l'impero diventa sacro romano, cosa vuol dire? Basato sull'antica idea chiaramente dell'impero romano, ma basato soprattutto moltissimo sull'idea del sacro, cioè sulla religione dell'impero, il cristianesimo. Oggi vedremo velocemente un altro fatto molto importante nella storia della religione cristiana, che è lo scisma d'Oriente. Con scisma d'Oriente si intende la nascita di una chiesa diversa dalla chiesa romana. Se prima il cristianesimo era stato unito, pur con già alcune differenze, dopo il 1054 sappiamo che il cristianesimo si divide. Nasce la chiesa ortodossa e la chiesa romana verrà chiamata chiesa cattolica. Quali sono i motivi di questa divisione? Beh, i motivi sono molti. Cerchiamo di vederne alcuni in maniera velocissima. Tra Oriente e Occidente c'era sempre stata una sensibilità diversa a livello, si direbbe, teologico, anche se questi argomenti sono un po' difficili da trattare. Tra Oriente e Occidente c'era una differenza anche politica a un certo punto, perché l'impero si divide, l'impero poi crollerà, l'impero d'Occidente, mentre continuerà a sopravvivere nella chiesa di Costantinopoli, scusate, nella città di Costantinopoli, quindi l'impero d'Oriente. L'Occidente diventa romano barbarico, Costantinopoli resta impero, quindi in un certo senso loro si sentivano la prosecuzione unica e vera dell'impero romano. Le divisioni chiaramente nascono anche perché non viene accettata la supremazia del Papa. Che cos'è la supremazia del Papa? È il fatto che il Vescovo di Roma sia, possiamo dire, il capo, e effettivamente lo è, della chiesa. Per diverse ragioni, l'Oriente ha sempre considerato tutti i Vescovi uguali. Casomai aspettava a Roma un primato d'onore per il fatto di essere sempre la città dove ci sono le tombe degli Apostoli Pietro e Paolo, fondatori del cristianesimo e del cristianesimo della chiesa cristiana. E poi anche, soprattutto, derivato dal fatto che loro appunto si sentivano poi la città più importante era Costantinopoli dopo la caduta di Roma. Per il fatto che chiaramente poi anche Roma non era mai stata intaccata da quelle che erano le eresie che per secoli sono circolate nel cristianesimo. Quindi questo primato per loro doveva essere un primato d'onore, non un primato di fatto, un primato giuridico. Quindi la tensione, la divisione nasce già secoli prima del 1054. Si formano due sensibilità diverse. È anche un'idea diversa a volte di intendere alcuni pilastri della chiesa, per direttamente, sempre stando nella dottrina ufficiale dei Vangeli del Nuovo Testamento, ma con delle sottolineature diverse. Questo farà sì che a un certo momento ci sarà quella famosa scintilla, si dice, che fa a piccare l'incendio e sarà una forte discussione sul credo, su quello che noi preghiamo, chi va a messa prega. Credo in un solo Dio, Padre Onipotente. La scintilla, non sto qua a spiegarla a livello di idee, di teologia, è il discorso dello Spirito Santo. Mentre i latini dicevano che procede dal padre e dal figlio, per gli orientali il primato era il primato del padre, quindi del Dio Padre che manda lo Spirito Santo, non il figlio, non anche il figlio, quindi non anche Gesù. È un discorso difficilissimo. Però, ecco, questa sarà la scintilla, ma i problemi c'erano già. Avviene che il Papa scomunica il Vescovo di Costantinopoli, gli ambasciatori papali deporranno la lettera, la bolla di scomunica nella cattedrale di Santa Sofia, lettera che si intitola Contra Grecoro Calunnia, cioè contro gli errori, le calunnie dei Greci, e il Patriarca di Costantinopoli scomunica a sua volta il Papa. Quindi le chiese si dividono. Da allora, sappiamo, esiste una chiesa cattolica e una chiesa ortodossa. Quali sono le differenze poi, in sintesi, fra queste due chiese? Beh, sono entrambe chiaramente cristiane, entrambe riconoscono Gesù Cristo, entrambe hanno gli stessi libri sacri, ossia i libri della Bibbia, entrambe hanno i sacramenti, battesimo, eucarestia e confermazione eccresima come sacramenti importanti. La differenza sta in alcune sottolineature. Alcune sono difficili da spiegare, chiaramente sono più sottolineature a livello di idee, di pensiero, di teologia, quindi queste le lascerei da parte perché diventerebbe molto difficile. Vediamo quelle più pratiche, quelle più visibili, che forse sono quelle anche più capibili tra le differenze. Beh, per esempio i preti ortodossi, ecco una differenza visibile, i preti ortodossi si possono sposare, ad esempio. Di solito sono i vescovi che non sono sposati, ma i preti si possono sposare. Un'altra differenza è che non esiste nella chiesa ortodossa un primate, si dice, cioè un capo, come può essere il vescovo di Roma, il papa. È un'unione di vari vescovi. La chiesa ortodossa, a differenza della cattolica, non è una. Mentre la chiesa cattolica è una in tutto il mondo, ossia un cattolico brasiliano, ad esempio, e un cattolico italiano hanno lo stesso modo di professare il cristianesimo, le stesse idee, lo stesso principio, la stessa chiesa romana, le chiese ortodosse sono molte. C'è la chiesa ortodossa greca, c'è la chiesa ortodossa russa, compatriarcato di Mosca, e ognuna di queste chiese ha delle sue particolarità, ad esempio nelle celebrazioni, nella liturgia, nel modo in cui viene celebrata, ad esempio, la messa. Altra differenza è che la chiesa ortodossa non ha mai avuto, nel liturgia, che praticamente è il modo in cui vengono celebrati i sacramenti, la messa, il battesimo, eccetera, non ha mai avuto un cambiamento. È sempre rimasta fedele a quello che è l'origine, quindi loro celebrano sostanzialmente la messa nello stesso modo in cui veniva celebrata nei primi secoli cristiani. Invece noi sappiamo che nella chiesa cattolica ci sono stati degli ammodernamenti, una volta, pensiamo che fino al 1965, anche un po' dopo, la messa veniva celebrata in latino, ora invece la messa viene celebrata nelle lingue nazionali. Non esistono nella chiesa ortodossa gli strumenti musicali, tipo le chitarre, eccetera, eccetera. No, è un modo molto ancora legato proprio alle origini. Altre differenze possono essere nel fatto che nel matrimonio, ad esempio, la chiesa ortodossa riconosce la possibilità di un divorzio, cosa che la chiesa cattolica non riconosce. Sappiamo che nel cattolicesimo ci si può risposare solamente non in chiesa, il matrimonio in chiesa è soltanto uno. Ecco, nella chiesa ortodossa, e forse qui su certe cose, sono anche, si direbbe, più attuali, forse, no? Perché questo è un problema un po' grosso. Nella chiesa ortodossa viene data la possibilità di risposarsi una volta nella chiesa. Un po' le differenze sono tantissime, no? Per esempio, nelle persone della Trinità, ma quando andiamo in teologia, la chiesa ortodossa riconosce una supremazia del padre, quindi è in certo senso una Trinità però con dei livelli diversi, cioè il primato è del padre, mentre per la chiesa cattolica a livello ortodosso tutte e tre le persone della Trinità sono uguali. Qui chiaramente è molto più legato alla teologia. Come sono i rapporti fra le due chiese? Beh, i rapporti fra le due chiese sono sempre più distesi, chiaramente non esistono più gli antichi odi, le antiche scomuniche, le scomuniche sono state ritirate, quindi c'è un rapporto di dialogo, anche perché appunto poi la religione effettivamente una è cristianesimo. Chiaramente poi anche ogni chiesa ortodossa ha la sua realtà, ecco, non è perfettamente uguale la chiesa ortodossa greca, dicevo, dalla chiesa ortodossa russa ad esempio, quella che sottostà il patriarcato di Mosca. Ecco, queste sono le cose un pochino più visibili, ecco, poi su tante altre chiaramente bisognerebbe star qui a parlare tantissimo, no? È una chiesa apostolica, perché appunto è stata una chiesa che ha la sua origine, la chiesa di Costantinopoli ha la sua origine negli apostoli, quindi come la chiesa romana è una chiesa di origine apostolica, cosa che non sarà per esempio la chiesa protestante, nata nel 1500, quindi nata molto dopo, quindi non avente un apostolo come fondatore. La chiesa di Costantinopoli si riconosce tantissimo con Sant'Andrea, ad esempio, Andrea Apostolo, ma le influenze poi derivano anche da altri apostoli, la chiesa greca sappiamo che era stata fondata da Paolo, ad esempio, no? La maggioranza delle chiese greche. Ecco, io credo di averli riassunto nella maniera più riassuntiva possibile un universo che andrebbe chiaramente spiegato in maniera molto più tranquilla, molto più lunga, molto più particolareggiata. Però, ripeto, le cose principali, quelle perlomeno capibili senza troppa difficoltà, spero di averle spiegate. Con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!